Salve a tutti ragazzi di GuiTunes, oggi siamo su YMV2 Scusate se non ho caricato, ho fatto video un tempo fa, ma mi è arrivato il PC da gaming nuovo Però con i miei amici ho fatto un po' di disguidi a montarlo, un po' di robe così E quindi il portatile non era attaccato con l'HDPWR e quindi era un po' un carino a registrare Ok mappa veramente da schifo estate, mappa da schifo quella oveste ragazzi Eh beh, giusto giusto Ragazzi siamo su underpass, mappa che sinceramente odio troppo per quando si gioca in uno contro una donna Quanta volta l'ho mancato sto uomo Ho detto che è un hacker Ahhhh Vabbè Ragazzi andiamo su Terminal Proprio cecchino tattico Ehm, andiamo di Intervention, altrimenti Andremo di Barret Ehm, non sono nostro purtroppo Abbiamo due che Stesso clan Ehm, quindi Però che non si bustano Allora Per me c'è qualcuno là E l'ho mancato Ma chi è che sto qua che parlo? Stai zanzetto perché lo preparo Oh Ok beh Kavic Blur e vai con le armi Mh Me l'ho ucciso Mh Ma sono dappertutto bravo questi qua Muori madonna Ma La bestione del Roma Ma che cazzo è che sono sti qua Ma che è sta gente che va in giro Sti sti nicchi Vabbè 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 Sti più le armi Muso anch'io a sto punto Eh vabbè Sti qua mi spomma colpi No ha cambiato Ha cambiato Ha cambiato Nel tocco cecchino Adesso è stata Eh Non sapevo che ci devo così Grazie Ma Cosa? Come ha fatto? Ma quante roba mi sta arrivando addosso? Quante roba Quanta roba Ma Guarda Guarda Mi tagliano che usano i cucchi Ci mancava Vabbè 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 Eh scudimi amico ma ero Vabbè 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 Si prendono sempre dietro E Ok No Bella Bella Ah Amore Passarlo Questa bomba E fanno i blu qua Ok Ok Ma Sono tutti qua a camperare Vabbè Vabbè Questa qua mi è arrivato un pochino da davanti C'è da davanti Ok Ragazzi X2 C'è da più No Unlucky Che cosa fai? Ok 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 Ok